Una serie di stupidaggini che sono abbastanza inquietanti. In un certo senso con la cultura italiana ci si può anche mangiare, tanto bisogna conoscerla, poi ci si può anche mangiare. Dire le cose che dobbiamo dire senza la voce, non come si fa in maniera un po' populistica, come i cacicchi. Chi è che ha detto no? Io ho sentito solo sì. Mettersi dalla parte del cittadino, questo è quello che aiuta a raggiungere l'obiettivo. Senza di lui, con la confusione totale che c'è, dovremmo ripartire per molte cose da zero. Il nostro credo è che il bene culturale è la locomotiva dello sviluppo del territorio. La passione si restringe nell'ambito in cui io vivo. Uno scopre il bene anche negli occhi degli altri e diventa qualcosa che fa migliorare la propria vita. La passione si restringe nell'ambito in cui io vivo. La passione si restringe nell'ambito in cui io vivo. La passione si restringe nell'ambito in cui io vivo.